Vellucchio numero 1 Venturini, 2 Giardini, 3 Zoffoli, 4 Tosti, 5 Peccorella, 6 Guidomei, 7 Orpinanti, 8 Mazzuoli, 9 Fratti, 10 Sacchini, 11 Micrucci, in panchina con uno 12 Semprini, 13 Muzzoli, 14 Gerardi, 15 Sebastiani, 16 Semprini, 17 Michilli, 18 Bernardi, 19 Alessi, 20 Carini, allenatore signor Mancini, Cielo United, numero 12 Brazioni, 5 Maragoni, 6 Muzzoli, 21 Amari, 14 Tola, 30 Brando, 7 Mazzarini Alberto, 20 Nicolini, 9 Pazzerini, 22 Vitalino, 17 Mazzarini Federico, in panchina con uno 12 Semprini, 13 Girardi, 24 Fittaro. Unico! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.